Colpo di scena o colpo di lusso per Piquadro a circa un anno di distanza dall'operazione The Bridge. L'azienda emiliana di pelletteria, quotata in borsa, si porta a casa un brand icona come l'Anselle. La Maison, che ha sede a Parigi ed è stata fondata nel 1876, crea e distribuisce pelletteria di lusso di qualità, accessori per uomo e donna. Uno dei suoi modelli più conosciuti al mondo è la Brigitte Bardot-Bag, un omaggio alla celebre attrice francese. Nel 2018 il gruppo L'Anselle ha realizzato un fatturato di circa 53 milioni di euro e ora per Piquadro il Made in Italy sarà in forte ascesa.